cari amici di gogo verde buongiorno oggi guarderemo insieme come utilizzare la nuova legatrice della pelle fiction 2 che è un'evoluzione della fiction precedente con delle notevoli con dei notevoli cambiamenti con dei notevoli miglioramenti ora apriamo la valigetta all'interno della valigetta troverete un fodero una cintura una scatolina con un caricabatterie completo di adattatori in base alla presa che si sta utilizzando questo rotolino che ho messo io per la prova troverete la legatrice il portafilo da innestare sulla legatrice il portafilo da mettere a cintura e una forbice una forbicina che vi serve per l'operazione di taglio e pulizia ora prendiamo la legatrice guardiamo alcune caratteristiche per capire qual è la differenza rispetto alla precedente innanzitutto come vedete la legatrice si tiene come una pistola cioè non è più come la precedente che aveva un cavo di collegamento alla batteria e il filo che usciva dal diciamo così dalla dalla cintura e dalla scatola in cui stava anche la batteria la batteria ora è a bordo macchina è all'interno del manico e la cosa principale cioè la diciamo così la soluzione che è rivoluzionaria è che il filo può essere messo a bordo macchina dopo vi farò vedere come potrete potreste anche scegliere però di avere un'autonomia maggiore come lunghezza di filo utilizzando la bobina col portafilo che va messa a cintura oggi faremo le prove con la bobinetta che va a bordo della macchina oggi faremo la prova utilizzando il portafilo che va a bordo della legatrice in modo da non avere nessun intraccio di nessun tipo allora per caricare il portafilo bisogna nella parte posteriore togliere la slitta di protezione che è questa vedete che si solleva voi la togliete appoggiamo qui ne approfitto tolta la slitta vedete che sotto c'è il jack la presa dove collegare il jack per caricare la batteria prendiamo il portarotolo da innestare c'è una slitta ci sono due guide che dovrete far combaciare in questo modo e poi spingere a fondo ecco fatto in questo modo la macchina è pronta per poter montare la bobina la bobina di filo potrete scegliere in base alle vostre esigenze esistono diversi tipi di filo oggi faremo una prova con un filo di con anima di ferro e filo carta si può usare il filo standard che è quello che vedete qua che praticamente è di plastica c'è un filo biodegradabile che si può utilizzare e c'è un filo come lo standard ma con anima in inox quello che cambia sostanzialmente la durata cioè il tempo che impiega il filo dopo la legatura a degradarsi con il filo di carta siamo intorno se non ricordo male 6 8 mesi con il filo biodegradabile anche 6 8 mesi con lo standard siamo intorno agli 8 10 mesi il filo inox si usa per legature particolari dura più anni allora torniamo al montaggio di questa bobina la cosa che dovete individuare subito è il capo di filo della bobina che eccolo dove è andato a finire eccolo qua quindi nella bobina voi dovete togliere perché ci sono tre avvolgimenti di fermo per bloccarlo sennò si aprirebbe a molla voi ne togliete qualcuno in questo modo senza eliminare i travolgimenti prendete in mano la legatrice su uno dei due non da questa parte ma chiaramente dalla parte dove si toglie il piattello di bloccaggio ci sono due icone c'è un lucchetto a sinistra chiuso a destra aperto quindi noi dovendolo togliere giriamo a destra tiriamo via il piattello la cosa più importante che dovete inserire il rocchetto in modo che il filo entri in questo modo cioè non dovete mettere il filo e farlo entrare in questo modo perché molto probabilmente si incepperebbe quindi inserite il vostro rotolino così in modo che vada fino in fondo ecco qua dopodiché mettete il piattello di fermo quindi reinserite facendo combaciare le alette e poi dopo girate dalla parte della chiusura ecco fatto fatto questo prendete la vostra macchina l'accendete ci sono due tasti il tasto più grande quello dell'accensione ecco c'è un display che vi fa vedere il residuo di carica in questo caso 68 per cento perché abbiamo fatto delle prove e poi c'è un tasto sotto piccolino e tasto mode dove potete selezionare solo gli avvolgimenti di legatura vi dà quattro possibilità il numero non corrisponde ai giri di legatura adesso noi lo teniamo su uno tanto per fare le prove di legatura va bene oppure possiamo anche metterlo su due ecco adesso praticamente è una soluzione media con la legatrice accesa prendete la piattina stirate un pochino il filo poi lo infilate in questo modo praticamente mettete il filo da sotto non deve essere incanalato da nessuna parte semplicemente voi lo mettete così poi dopo fate prendete le forbicine che sono corredo della macchina e tagliate gli avvolgimenti di fermo in questo modo poi li sfilate così potete già dare il primo colpo se non lo prende voi andate un po' più avanti ecco vedete che ha tirato il filo togliamo l'ultimo a questo punto ecco fatto ora la macchina è pronta per essere utilizzata per fare la prova potete inserire il dito in questo modo ha già effettuato la prima legatura ora la macchina è pronta per effettuare il lavoro vedrete com'è veloce la macchina ad effettuare le legature non c'è paragone con la legatura a mano ma direi che anche con la precedente il precedente modello di legatrice o anche con altri modelli presenti sul mercato il fatto di non avere più l'intralcio del cavo e del filo durante l'operazione di legatura specialmente anche in certi impianti tipo quello tendone risulta molto ma molto comodo ora faremo qualche prova di legatura quindi indosserò il fodero che è molto comodo per portare la macchina a cintura il fodero è dotato di un'asola larga in modo da far passare questa comoda cintura vi consiglio anche di prendere sempre con voi le forbicine perché in caso si inceppi la macchina questi risultano essere molto utili non mettetele in questa in questa sede perché rischiate di perderle vi consiglio di metterle in questa tasca che probabilmente vi evita questo problema ora prendiamo la legatrice e facciamo qualche prova di legatura ora facciamo qualche prova di legatura è importante che quando legate il becco della legatrice sia contro la parte che dovete legare in questo modo cioè non tenete la legatrice così ma tenetela così dopodiché ecco fatto quindi in successione potete fare tutte le legature che volete e la cosa bella di questa macchina che potete fare più legature sulla stessa legatura vedete ad esempio prendiamo anche qua questa scappata voi potete fare una due tre fino a quattro legature una sopra l'altra è molto veloce come vedete la legatura viene fatta molto velocemente potete anche fare in certi tipi di allevamento si può fare anche la legatura in questo modo perché adesso qua no perché abbiamo questo però se voi avete l'archetto lo chiamate lo chiamiamo entrate dentro così e vedete che si può anche fare la legatura del tralcio in verticale su filo orizzontale bene ora guarderemo insieme come fare in caso di inceppamento della macchina può succedere è molto raro con questo modello rispetto a quello precedente questa difficilmente si incepperà ma diciamo così che può succedere quindi c'è un'operazione molto semplice da eseguire per disinceppare la macchina prima di tutto spegnete la macchina quindi sentite il bip poi dovete schiacciare questo pulsante di fermo e aprire il carter anteriore quindi troverete la parte dell'avvolgimento della macchina in rullo e dovete praticamente controllare che non ci siano delle porzioni di filo sparse sotto a queste posizioni se ci sono le togliete magari con l'ausilio della pinzetta delle forbici a pinzetta ma sicuramente la cosa migliore da fare per essere sicuri che non ci siano porzioni di filo che vanno inceppare la macchina è quella di togliere il trapezio di guida che è questo pezzettino di plastica qua per toglierlo con l'ausilio sempre delle forbici fate leva leggermente qui sotto ecco in modo da farlo scattare all'insù riponete le forbicine e poi con le mani togliete il pezzettino di plastica come vedete sotto si vede il filo che viene trascinato e poi effettua la legatura mediante il meccanismo anteriore con le pinzette se vedete dei pezzettini di filo adesso in questo caso non è incepata non si vede niente comunque se vedete dei pezzettini di filo sotto a questo rullo dovete comunque toglierli e fare pulizia quando reinserite il rullo cioè il rullo chiedo scusa quando reinserite il trapezio di plastica dovete fare due movimenti il primo è l'inserimento della parte con la lamella di plastica posteriormente cioè non va in avanti ma va dietro la dovete posizionare dentro a quella scanalatura mezzaluna che c'è sia da una parte che dall'altra della parte di scorrimento del filo della zona di scorrimento quindi voi spero che si veda mettete dentro bene questo trapezio questo pezzettino di plastica fatto questo quando è inserito lì lo spingete giù in questo modo è importante che quando chiudete spingete giù col dito pollice ecco si deve sentire questo click fatto questo potete richiudere la macchina poi dopo chiaramente riaccendete e provate a legare vedrete che si è disinceppata ora guarderemo insieme come utilizzare il caricatore grande quello che porta la bobina da 200 metri questa è una bobina di filo standard da 200 metri e questo il caricatore per prima cosa dovete aprire questa agendo su questa linguetta dovete aprire la parte superiore del caricatore in questo modo poi bloccate la parte inferiore della del portarotolo e agendo in modo contrario sul sul piattello di blocco lo sfilate dopodiché prendete il rotolo ricordatevi sempre che il rotolo questo è questa è la parte di filo che deve essere inserita nel foro di uscita dovete inserirla quindi dicevo sempre in modo che il rotolo e l'uscita del filo sia in senso orario quando avete quando avete messo il rotolo di filo dentro alla sede potete sfilare un po questo in modo da infilarlo poi dentro al foro dopodiché prima di chiudere mettete il piattello dopo ognuno poi può scegliere i passaggi e le modalità come è più comodo mettete il piattello che blocca il rotolo in questo modo e fate leva in direzione del lucchetto chiuso in modo che non vi esca più ora dovete tagliare i blocchi i pezzi di piattina che bloccano il rotolo e lo fate con l'ausilio delle forbicine quindi prendete le forbicine e tagliate pezzi di piattina sfilandoli da sotto intanto infilate già parte del filo nel foro prendete l'altra piattina l'altro filo di blocco e lo sfilate tirate ancora il filo prendete l'ultimo e lo sfilate ecco qua chiudete la slitta riponete le forbicine prendete il vostro portarottolo lo inserite in questa cintura come vedete c'è una doppia cintura che fa giusto da portarottolo non vi può sfuggire perché come vedete la clip ha un blocco finale che vi permette vi impedisce la fuoriuscita quindi lo infilate calzandolo spingendolo giù fino in fondo ecco così dopodiché riprendete la piattina la stirate sempre un po accendete in questo caso era già accesa accendete la macchina si è spenta dopodiché appena avete infilato la piattina ecco fate un giro tirate un pochino e la macchina è pronta per funzionare allora la differenza tra questo sistema e l'altro è chiaro che qui avrete un ingombro un pochino maggiore perché avete sempre la piattina tra il braccio e il corpo quindi le legature vengono fatte comunque come facevamo prima ogni tanto però dovete prendere filo in modo da vedete perché comunque un po' il trascinamento della macchina permette l'uscita del filo ogni tanto però dovete non è che dovete stare sempre lì a guardare però dovete controllare che non ci siano dei blocchi rispetto al modello precedente è molto meglio perché comunque quando voi tirate c'è un sistema che è una specie di frizione lenta che non permette al filo di fuoriuscire di più o di tornare indietro quindi è molto comodo anche questo sistema qui 200 metri quindi con questo sistema cambiate un rotolo se usate il rotolo a bordo macchina e ne dovete cambiare quattro diciamo così perché sono 60 metri io ho finito spero di essere stato esaudiente grazie per l'attenzione